Ciao, sono il fondatore di FITExpress per l'estero costo per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Abbiamo già 40 strutture in giro per l'Italia e per l'Emilia-Romagna siamo partiti da Rimini, la città più importante dell'Emilia-Romagna, a nostro modo di vedere. Abbiamo qui l'assessore Mattia Morolli che è venuto a trovarci e darci il benvenuto. Cosa ne pensa di questa struttura che abbiamo realizzato? Penso che FITExpress è la benvenuta qui a Rimini, una realtà che fa dell'Unness una sua cifra. Qua c'è appunto la FIA dell'Unness che è la più importante in Europa. Rimini è una città dove la motricità, il divertimento, lo stare in forma fa parte della sua caratteristica. Insieme alla piadina e alla poesia a Fellini è un elemento caratterizzante. Vi diamo il benvenuto non solamente per quello che portate come posto di lavoro, come professionalità, ma per quel gusto d'Europa che caratterizza questo territorio. Grazie Mattia e sono molto contento e si vede dalle tue parole che sicuramente siamo i benvenuti. Anche perché il wellness in Italia è nato dall'Emilia-Romagna. Poi anche una delle aziende più importanti al mondo, se non la numero uno al mondo, parte proprio dall'Emilia-Romagna. Quindi siamo molto contenti di partire da qui per l'Emilia-Romagna. Abbiamo ovviamente all'attivo 40 strutture ma stiamo pensando e abbiamo i progetti di prendere 150 nei prossimi 5 anni in tutto il resto d'Italia. Ciao, grazie.